Buongiorno, questa sera sono in nuova serie dei concerti e delle organizzazioni musicali dell'Oscenco. Questa sera avremo un programma un po' particolare che era poi spiegato dal professor Dolore, e soprattutto il dolore, il dolore e il sarco, in altre grandi elementi, l'unica e il sarco, anche il futuro di un'ottima, che è la traduzione concidenziale e politica. Ma ci sono parole, al professor Deo, che ha avuto la professione di essere presente e di oggi a parlare, soprattutto a cui ci sono state. Grazie. 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 e tutto il vento è per te, si è assalita la diversità o la possibilità, e non è tutta perché non è tutta, si è anche tu. Quindi la sua pubertà e la sua emezza stanno nel volentare a te, e ancora soltanto a tutti quelli che sono chiamati Presidente e l'interiore è per l'imperfezione, con il bene e ragione, la voglia o no. Se vorranno essere ciò che possono essere, ververranno all'essere più marriano, saranno comunque signori di se stessi, nel cielo e nella terra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.